I consiglieri comunali della Lega Oscar Aiello e Valeria Visconti hanno presentato un'interrogazione al sindaco Roberto Gambino per chiedere quanti dipendenti dell'ufficio Tributi siano andati in pensione dal 2020 e quanti prestano ancora servizio. I due rappresentanti della Lega hanno evidenziato che molti cittadini non riescono a contattare telefonicamente l'ufficio in questione per fissare un appuntamento, sottolineando contemporaneamente quanto sia importante mettere i dipendenti comunali in condizione di poter lavorare serenamente, offrendo ai cittadini un servizio efficiente. Grazie.